Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Idroponica e tecnologia. Questa mattina all'IPIA di Sciacca un momento di approfondimento che segna anche una sinergia, una forma di collaborazione della scuola con la Confederazione Nazionale degli Artigiani. Il professore Sabella ci può spiegare il progetto e quindi come nasce questa iniziativa? L'idea nostra è sempre quella di creare attività nel territorio utilizzando le sorgenti disponibili che noi abbiamo e creare lavoro in maniera tale che i nostri futuri giovani non vanno lì sopra ma restano qua utilizzando veramente le risorse energetiche che noi abbiamo. Stiamo coniugando per ora le tecnologie che i ragazzi studiano durante il loro corso con l'idroponica, la coltivazione fuori suolo. La coltivazione fuori suolo consiste nella creazione di prodotti vegetali dove c'è una tecnologia veramente impressionante dal punto di vista idraulico, dal punto di vista dell'automazione ma soprattutto dal punto di vista energetico. Stiamo facendo questo seminario veramente per far crescere questa mentalità. Preside, c'è una nuova sensibilità da parte dei giovani verso questi argomenti? Una sensibilità imposta dalle emergenze mondiali potremmo dire. Assistiamo ogni giorno agli eventi anche tragici legati ai cambiamenti climatici, all'utilizzo delle risorse che ormai cominciano a scarseggiare. Da questo punto di vista quindi noi sposiamo la sensibilità dei nostri giovani con l'offerta formativa dell'Istituto che è sempre attento all'innovazione tecnologica, a istruire e formare i ragazzi per fornire loro prospettive occupazionali valide. Il nostro istituto continua a accreditarsi nel territorio come punto di riferimento per le famiglie e da questo punto di vista io mi sento di garantire le famiglie stesse, ricordando che spendiamo tutte le nostre risorse a vantaggio dei ragazzi per permettere loro di crescere sia dal punto di vista professionale ma anche umano e di cittadinanza. Presidente, la CNA ha subito sostenuto questa iniziativa e anzi partecipe del progetto. Noi siamo felici intanto e ringraziamo il dirigente scolastico dell'invito che ci ha fatto perché siamo convinti che è un argomento di grande importanza, di grande valenza. Poi coniugare la formazione, quindi la scuola, con il mercato del lavoro, quindi la Confederazione Nazionale che si occupa appunto delle piccole e medie imprese, è una grande opportunità, ma un'opportunità che diamo anche ai nostri ragazzi per cercare di capire verso dove andare, verso dove dirigersi per trovare una nuova occupazione. Si dice che circa il 50% dei mestieri che ci sono oggi nel giro di Gianni scompariranno. Alla stessa stregua si dice anche che il 50% dei ragazzi che studiano oggi non si sa che lavoro faranno perché faranno dei mestieri che ancora non ci sono. Quindi la nostra mission è proprio quella di cercare di fare in modo che la formazione da una parte, quindi gli istituti professionali, i ragazzi dall'altra e il mondo del lavoro dall'altra parte possano trovare il filo conduttore comune per dare occupazione e sviluppo economico al nostro territorio, ma anche per far sì che i ragazzi che noi abbiamo montato a studiare nel nord Europa possano tornare e far crescere il nostro territorio. Grazie. 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 Grazie.